Vantaggi del tessuto, morbido, confortevole, facile da lavare, senza sbiaddire Selezione delle dimensioni, si prega di misurare con attenzione busto, girovita e fianchi quando si acquista denaro, quindi scegliere la taglia più adatta alle proprie esigenze in base alla tabella delle taglie sulla foto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti